E' un film non semplice da interpretare? No, per niente semplice, è molto complesso come avete visto, molto complesso ma questa complessità alla fine si racchiude in una semplicità. Sembra semplice forse, però dentro c'è tanto lavoro, tanta fatica, fatica vera, sudore è il vero, i tramonti pure. Nella vita però come sai, perché molto spesso è vero che si recita quando si fa teatro o si fa cinema, però a volte, insomma, se si vince anche un premio significa che si riesce a entrare, quindi c'è un pezzo di te che era rappresentato in questo film. Eh, ci sono tanti pezzi di me, che ne so, l'amore per il proprio quartiere, quello intanto è un pezzo di me, se voler stare bene, la non violenza, nel senso perché comunque non è violente il personaggio, non cerca, è un personaggio che evita. Evita sempre lo scontro, in qualche maniera. E poi l'amore per i cani, l'amore per i cani mi hanno seguito sempre nella mia vita e sono stati loro ad insegnarmi tante cose, come la sincerità anche nel recitare. Un cane appena è sincero, appena si annoia se ne va. Quando ti hanno proposto questo film, cosa hai pensato? Proprio il primo pensiero. Bello, un mazzo, un bel lavoro complesso e subito mi sono dato, nel senso che mi è piaciuto, mi è piaciuto, mi è piaciuto subito il progetto, è un progetto molto amplesso, è molto laborioso e ho visto che c'erano tante occasioni di mettermi in gioco anch'io come attore e come persona, anche di cose che non avevo mai fatto, tra l'altro. Grazie.